Prima partita stagionale, lo Stado Adriatico, subito una vittoria o possiamo dire anche benaugurante per il campionato? Sì, benaugurante anche se non c'entra niente col campionato, però da queste partite si possono trarre i primi concetti, quello che si riesce a vedere. Oggi sono contento perché ho visto la continuazione di quello che abbiamo iniziato l'anno scorso, la squadra ha giocato, ha fatto molto bene, credo anche con qualche difficoltà per mancanza di cuori, però sulla base del lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso, cioè di lavorare sui concetti, puoi spostare gli uomini, ma il risultato non cambia. Certo, ognuno con le proprie caratteristiche, però il Caporale ha fatto la punta, ha fatto il tre quartiste, quindi sono contento, sono contento per i nuovi che hanno fatto molto bene, quindi le indicazioni sono molto positive. Quindi contento anche per Berle soprattutto? Sono contento per tutto, sono contento per tutti, dal primo all'ultimo abbiamo fatto una buona partita. Ma è una domanda, insomma, allusiva, nel senso voglio dire, Berle si fa notare in queste settimane nel suo futuro, però se non sei convinto di restare, non sfodere i prestazioni del genere. Ma io non credo molto a queste cose perché poi alla fine o sei stupido e allora vai contro i tuoi interessi oppure dai tutto in campo, il giocatore quando va in campo si deve divertire, lui oggi si è divertito, ha fatto bene, siamo i propri compagni, ma poi io faccio un allenatore, insomma, il presidente del sportivo, l'amministratore delegato di questa società. Io posso dare un giudizio tecnico sui giocatori, posso decifrare quanto sia importante il giocatore in questa squadra e posso consigliare, poi di più non posso fare. Però insomma, ha la testa giusta, voglio dire, è sul pezzo. Se non avesse la testa giusta avrebbe giocato qualsiasi altra società. Senti, questo è un istante, mi è sembrato un giocatore già in palla, sono anche proposti in avanti, sembra quasi che il giocatore gioca si giocava lo scorso con questa squadra. Anzi, i miei nuovi stanno applicando tutto, ho già fatto molto bene, a partire da Rizal, a Gomber quando è entrato, a Coda, dopo di nuovo, è cristante, insomma, ha fatto anche Gatti, 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 Gatti ha fatto molto bene, quindi sono contento perché sono tutti giocatori calcisticamente molto intelligente e quando sei intelligente calcisticamente li fanno un giocatore.